Amici, romani, compatriotti, prestatemi orecchio. Io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. Il male che gli uomini fanno sopravvive loro. Il bene è spesso sepolto con le loro ossa. E così sia di Cesare. Il nobile Bruto va detto che Cesare era ambizioso. Se così era, fu un ben grave difetto. E gravemente Cesare ne ha pagato il fio. Qui, col permesso di Bruto e degli altri, che Bruto è uomo d'onore, così sono tutti, tutti uomini d'onore. Io vengo a parlare al funerale di Cesare. Egli fu mio amico, fedele e giusto verso di me. Ma Bruto dice che fu ambizioso. E Bruto è uomo d'onore. Molti prigionieri, egli ha riportato a Roma. Il prezzo del cui riscatto ha riempito il pubblico tesoro. Sembra questo atto ambizioso in Cesare. Quando i poveri hanno pianto, Cesare ha lacrimato. L'ambizione dovrebbe essere fatta di più rude stoffa. Eppure Bruto dice che egli fu ambizioso. E Bruto è uomo d'onore. Tutti vedeste come a Lupercale tre volte gli presentai una corona di re che gli tre volte rifiutò. Fu questo atto di ambizione. Eppure Bruto dice che egli fu ambizioso. E in vero Bruto è uomo d'onore. Non parlo, no, per smentire ciò che Bruto disse. Ma qui io sono per dire ciò che io so. Tutti lo amaste una volta. Né senza ragione. Qual ragione vi trattiene dunque? Dal piangerlo. Oh senno. Tu sei fuggito tra gli animali bruti. E gli uomini hanno perduto la ragione. Scusatemi. Il mio cuore giace là. Nella bara con Cesare. E debbo tacere sinché non ritorni a me. Pur ieri, la parola di Cesare avrebbe potuto opporsi al mondo intero. Ora egli già ce l'ha. E non v'è alcuno per quanto basso che gli renda onore. Oh signori, se io fossi disposto ad eccitarvi il cuore e la mente alla ribellione e al furore, farei un torto a Bruto e un torto a Cassio. I quali, lo sapete tutti, sono uomini d'onore. E non voglio far loro torto. Preferisco piuttosto far torto al defunto. Far torto a me stesso e a voi. Di far torto a si onorata gente. Ma qui, qui è una pergamena col sigillo di Cesare. Ho trovata nel suo studio. È il suo testamento. Che i popolani odano soltanto questo testamento che, perdonatemi, io non intendo di leggere. E andrebbero a baciar le ferite del morto ed immergerebbero i loro lini nel sacro sangue di lui. Anzi, chiederebbero un capello per ricordo e morendone farebbero menzione nel loro testamento lasciandolo ricco legato alla prole. Pazienza, gentili amici, non debbo leggerlo. Non è bene che voi sappiate quanto Cesare vi amò. Non siete di legno, non siete di pietra, ma uomini. Ed essendo uomini e udendo il testamento di Cesare, esso vi infiammerebbe, vi farebbe impazzire. Ebbene, non sappiate che siete i suoi eredi, che se lo sapeste, o che ne seguirebbe. M'obbligate dunque a leggere il testamento e allora fate cerchio intorno al corpo di Cesare e lasciate che io vi mostri colui che fece il testamento. Devo scendere e me lo permettete? Se avete lacrime preparatevi a spargerle adesso. Tutti conoscete questo mantello. Io ricordo la prima volta che Cesare lo indossò. Era una serata estiva nella sua tenda, il giorno in cui sconfisse i nervi. Guardate, qui il pugnale di Cassio l'ha trapassato. Mirate lo strappo che casca nel suo odio vi ha fatto. Attraverso questo il ben amato Bruto ha trafitto e quando tira fuori il maledetto acciaio. Guardate come il sangue di Cesare lo seguì, quasi si precipitasse fuori di casa per assicurarsi se fosse o no Bruto che così rudemente bussava perché Bruto come sapete era l'angelo di Cesare. Guardate o dèi quanto caramente Cesare lo amava. Questo fu il più crudele colpo di tutti perché quando il nobile Cesare lo vide che feriva in gratitudine più forte delle braccia dei traditori completamente lo sopraffece. allora si spezzò il suo gran cuore e nascondendo il volto nel mantello proprio alla base della statua di Pompeo che tutto il tempo si rorava di sangue il gran Cesare cadde. Oh qual caduta fu quella miei compatriotti. Allora io e voi e tutti noi cademmo mentre il sanguinoso tradimento trionfava sopra di noi. Ora voi piangete e m'accorgo voi sentite il morso della fietà. Queste sono generose gocce anime gentili. Come? Piangete quando non vedete ferita che la veste di Cesare guardate qui eccolo lui stesso straziato come vedete dai traditori. Buoni amici dolci amici che io non vi sproni a così subitane ondata di ribellione coloro che hanno commesso quest'azione sono uomini d'onore quali private cause di rancore essi abbiano oimè io ignoro che li abbiano indotti a commetterla essi sono saggi ed uomini d'onore e senza dubbio con ragioni vi risponderanno non vengo amici a rapirvi il cuore non sono un oratore come Bruto bensì quale tutti mi conoscete un uomo semplice e franco che ama il suo amico e ciò ben sanno coloro che mi hanno dato il permesso di parlare in pubblico di lui perché io non ho né l'ingegno né la facondia né l'abilità né il gesto né l'accento né la potenza di parola per scaldare il sangue degli uomini io non parlo che alla buona vi dico ciò che voi stessi sapete vi mostro le ferite del dolce Cesare povere povere bocche mute e chiedo loro di parlare per me ma se io fossi brutto e brutto Antonio allora vi sarebbe un Antonio che vi sommoverebbe gli animi vostri e porrebbe una lingua in ogni ferita di Cesare così da spingere le pietre di Roma a insorgere e ribellarsi ecco il testamento e col sigillo di Cesare ad ogni cittadino romano egli dà ad ognuno individualmente settantacinque dramme ascoltatemi con pazienza inoltre egli vi ha lasciato tutti i suoi passeggi le sue private pergole e gli orti nuovamente piantati al di qua del Tevere egli vi ha lasciati a voi e dai vostri eredi per sempre pubblici luoghi di piacere per passeggiare e per divertirvi questo era un Cesare quando ne verrà un altro simile grazie grazie